Eccomi qua, ciao a tutti ragazzi, bentornati su questo canale Io oggi devo annunciarvi una super novità E quindi iscrivetevi al mio canale, lasciatevi un like, attivate il campanello E non dimenticatevi di lasciarvi qualche commento Sigla! Eccomi qua, devo annunciarvi che nel 2022 sarò Beauty per Framesi Un'azienda italiana che ha prodotti molto naturali e professionali Quindi sto studiando tricologia, tutti i loro prodotti, i principi attivi che ci sono all'interno Vi dico solo che si chiama Morphosis È una linea per tutti i tipi di capelli e per tutte le anomalie del cuoio capelluto All'interno molto spesso, anzi su tutti i prodotti, troviamo principi attivi naturali Che vengono presi proprio nella flora mediterranea Vengono anche lavorati con una tecnologia che preserva le loro virtù Quindi potremmo trovare, che ne so, l'estratto di basilico bio L'estratto di limoni bio, estratti di cellule vegetali della mela, dell'uva e molto altro Innanzitutto, molto spesso su questi prodotti non ci sono slas, non ci sono parabeni, sorfati O profumi o glutine E quindi molto molto attenti alla nostra salute e anche a quella dell'ambiente Ma siccome sapete che io mi faccio conoscere tutti i prodotti che mi piacciono di più Ho pensato ad uno, che è per la cute grassa, come la mia E anche un'anticaduta Cioè appena me l'hanno spiegato così ho dovuto testarlo Perché sapete che ho tutte queste anomalie Quindi vi faccio vedere, reinforcing, eccole qua, le ampolle Che combattono la caduta per cute grassa e capelli fratili Adatta sia per la donna ma anche molto per l'uomo Perché anche l'uomo facendo magari palestra così ha una cute molto grassa Quindi è ottima anche per l'uomo All'interno troviamo l'estratto delle cellule staminali dell'uva Che va a combattere lo stress ossidativo e anche a stimolare la microcircolazione Eccole qua Se ne trovano dentro una scatola 12 ma vanno applicate per metà Quindi alla fine saranno 24 applicazioni Infatti con il tappo lo potete riapplicare Eccola qua vi faccio vedere C'è anche proprio dove dovete arrivare 3.5 perché sarebbe totale 7 ml Il tappo lo potete staccare e riapplicare All'interno quindi troviamo lo zinco Che è un antimicrobico E anche un antiodore perché lo sappiamo che purtroppo questa cavolo di cute grassa Ci fa pupare i capelli E poi troviamo anche l'acido zaleico Che anche questo da combattere la caduta Ci inibisce un po' anche il sebo E poi troviamo la vitamina B6 La vitamina H, la vitamina E L'arginina che è un vasodilatatore E quindi stimola i nostri vasi sanguigni a portare ossigeno al bulbo pilifero Molto molto buona Io adesso la applicherò Consiglio a tutti di applicarla almeno 3 volte a settimana Per 6 settimane Se avete un problema, un'anomalia un po' più importante Può essere applicata fino a 11 settimane Fate sempre un buon massaggio per scollare il cuoio capelluto Perché è molto importante mantenere il collacene morbido Così Sentirete anche un po' di calore alla cute Tutto è normale Anzi, sinceramente, dà molto sollievo Quasi piacevole Anzi, molto piacevole Tutti questi prodotti pian piano vi farò conoscere tutti Soprattutto quelli che io reputerò I più buoni o comunque particolari da conoscere Vi lascio tutto sotto in info box Trovate il link per acquistare questi prodotti Ma come sapete c'è bisogno di una diagnosi Quindi lasciatemi un commento se volete la diagnosi Io ve la farò volentieri Perché la beauty serve proprio a prescrivere Il trattamento più adatto per le vostre esigenze Trovate sempre il codice sconto Che vi metto qua sotto Per ricevere uno sconto il 20% Su questo prodotto e su tutti gli altri All'incirca mi sembra Adesso non vorrei errare Che vengono una scatola così 67 euro Quindi vi aspetto tutti Sui miei social E lasciatemi un like se vi va E ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti